Anticipazioni Il Segreto, puntata di martedì 14 febbraio 2017. Sempre ricche di intriganti sorprese si prospettano le anticipazioni della puntata che andrà in onda il giorno di San Valentino. La trama ci dice che una volta che la situazione si è tranquillizzata, Severo fa a candela la sua proposta di matrimonio e che lei accetta con emozione. Armando vuole ricanalizzare l'acqua senza preoccuparsi dei Santa Cruz, mentre Camilla arriva all'osma d'Antiales e scambia Elias per suo marito. Prima parte. Severo si sposa. Sembra finalmente che le cose cominciano a girare nel verso giusto per Severo Santa Cruz. Il fantasma di Eliseo è ormai soltanto un brutto ricordo, ed egli non immagina di avere un nuovo, potente nemico, ossia Armando dos Casas. I presupposti sembrano ormai maturi per un passo importante, per cui Severo decide di chiedere la mano di Candela. La pasticcera è immensamente felice della proposta di matrimonio, che accetta senza esitare. Seconda parte. Il piano di Armando. Nel frattempo, Armando prosegue la sua attività di decanalizzazione dell'acqua con l'aiuto di Elias Mato. L'uomo sembra non preoccuparsi minimamente del fatto che la cosa danneggerà la tenuta della miela amarga, anzi. Egli intende proprio creare problemi a Severo, al quale non perdona di non aver prestato soccorso a Emella la sera del terribile incendio che devastò l'Eral. Severo si troverà seriamente in difficoltà a causa del comportamento del dos Casas. Ci vorrà ancora del tempo prima che la cosa possa risolversi. Ultima parte. L'arrivo di Camila. Una volta saputo che Camila, la moglie di Armando, è sopravvissuta al naufragio della nave a bordo della quale viaggiava, all'Osman Antialas si attende il suo arrivo e si organizza un rin fresco per festeggiare il suo arrivo a Puente Viejo. Armando è rimasto impassibile alla notizia, ma decide comunque di dare il benvenuto alla consorte. Questa, al suo arrivo, susciterà la sorpresa di tutti con un atteggiamento estremamente singolare. Ella abbraccerà Elias anziché Armando, e si scoprirà che ella lo aveva scambiato per suo marito, poiché i due si sono sposati per procura e non si sono mai visti prima. Chiudiamo qui le anticipazioni Il Segreto sulla trama della puntata in onda martedì 14 febbraio 2017. Non perdete le prossime notizie sulla telenovela spagnola. Grazie per la visione!